In questo posto qui fanno raduni diversi date, per esempio l'anniversario di Don Menno, dopo la caduta di due toni, c'è tanta gente che circonda qui, si sonano canzoni di lì sulla parte e tante volte si lasciano rose, si lasciano, si lasciano qui durante l'estate, e sulle panchine si vede la mette così di nomi di quelli che donano? No, no, è qua, ha scritta così. Allora, con i amici? Grazie a tutti. Grazie a tutti.